Grazie, Presidente. Io vorrei sottolineare l'ipocrisia, perché noi abbiamo lavorato nel Comitato Ristretto e sull'articolo 14 ci siamo sforzati molto per trovare una convergenza, per trovare dei limiti anche alla pubblicità. Noi del Movimento 5 Stelle abbiamo messo dei paletti molto forti nei confronti anche delle immagini pubblicitarie, della promozione e vedo che proprio non ce la fate a migliorare, proprio non ce la fate. Anche quando uno si sforza di venire incontro, di sedersi a un tavolo, di migliorare i testi, poi che cosa si fa? Si fa finta di migliorare, poi si va al Senato, si rimanipola tutto e si risputa di nuovo un articolo che è sicuramente peggiorativo di qualunque dialogo, di qualunque forma, di qualunque esigenza e di qualunque miglioramento nei confronti della vita e dei cittadini e della salute. Qua si parla di salute pubblica e, come al solito, ancora una volta i partiti hanno sottolineato molto bene da che parte stanno. Grazie.